Gli altri facevano il giro che abbiamo detto, quindi dove saranno andati di là? Ah facciamo quello, ti spiego, loro sono andati di qua, sono arrivati dall'asfalto E cos'è che dobbiamo fare? Questo qua invece si chiama... Questo è un trasferimento? Quindi questa traccia qua è giusto un trasferimento per andare a incontrare l'altro sentiero Guarda che bello qua, guarda, c'è una vista là fantastica Andiamo al panorama, bellissimo Bellissimo Wow, anche oggi è una bella giornata Ne ritorno di lava, sennò questi che mi ci lasciano Questa che si chiama? Kill Bill 1 Quindi Kill Bill 1 è il primo tratto? Poi c'è una donata la quarta Kill Bill 1 Però adesso qua, quei rovi lì mi bucano le gambe Ebbè 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 Qui si perde in fretta di quota Che figata Che figata Puoi dare? No, 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 guardavo gli altri cosa arrivava Bello, vero? Sì, sì, prima di quota in un attimo, Dio Moro Ah, per quello che è bellissimo Che bello qua, com'è cambiato il paesaggio Sembra dai due muri Eh sì, com'è cambiato il paesaggio Ok, questo è fatto E adesso andiamo a cercare l'altro Questa è Madonna della Guardia Sì Via Andiamo a vedere com'è E abbiamo fatto Kill Bill 1 o 2? 1 Kill Bill 1 Madonna della Guardia Via Pace Il Il Sì. Beh, qualche passaggio tecnico c'è, vi ricordavo un po' i due muri, qui il pezzo del bruciato C'è un po' che c'è certo Sì, questo qui è decisamente più tecnico di quelli fatti stamattina Poi, non conoscendolo, si va un po' col freno tirato Ci portiamo al furgone, oggi abbiamo finito la giornata Bello, bello, bello Grazie